L'atleta manca Francesco, è atteso controllo peso e chi? L'atleta manca Francesco, è controllo chi? Anche l'atleta Loda Gianluigi e Collia Francesco, Fusolo Mosè e Claudio Wasparri, Bianca Master 2, meno 70, controllo chi e peso. L'atleta manca Francesco, Fusolo Mosè e Claudio Wasparri, Bianca Master 2, meno 70, controllo chi? L'atleta manca Francesco, Fusolo Mosè e Claudio Wasparri, Bianca Master 2, meno 70, controllo chi? L'atleta manca Francesco, Fusolo Mosè e Claudio Wasparri, Bianca Master 2, meno 70, controllo chi? Al podio, categoria Master 1, 30-35, cintura bianca, peso massimi, 94-3, 17, Antonio, Fusolo Mosè e Claudio, Giorgio, Dani Marco. Grazie. Grazie. Non farti girare, bravo. 20 secondi. Vienilo. Si presentino al peso, cintura bianca, categoria adulto, peso più umano. Vienilo. Di Stefano Alessandro, Muriana Andrea, Tellera Gabriele, Piantoni Pante, Baggio Giovanni, Viola Paolo Jesus, Raya Fernandez Diego, Bianchi Luca, Tarazza Adelì, Robosa Poere, Mercantelli Stefano. Bravo. Bravo Andre. Bravo Andre. Bravo Andre. Bravo Andre.